Cosa ne pensa di Schlein alla guida del PD? Speriamo che vada bene e che Renzi non si allegga con lui perché sennò il PD perde ogni cosa. È preparato e è un tipo come la Meloni che è risolutivo. Io non seguo la politica del PD, io sono di destra quindi questa qui proprio non mi piace per niente da quello che dice. Una donna valida sotto tutti gli aspetti e penso che si dia veramente una ventata di novità al PD. Quindi auguriamocelo. Insomma come diceva qualcuno in un noto film. Di una cosa di sinistra, di una cosa di sinistra, di una cosa di sinistra. Che dica qualcosa di sinistra appunto. Una donna capo del PD, una donna come premier, insomma la politica è donna. Sì, 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 ma questa è una cosa molto positiva. La politica adesso non ho che dire insomma. Non ha parole. Non ho parole. Mi è stato chiesto se vengo eletto cosa intendo fare per i poveri e i bisognosi. Ecco, cosa intendo fare? Ragazzi io non ci avevo pensato su sta cosa. E gli Schlein cosa ne pensano? In realtà al momento mi dispiace ma non sono molto informata. Però se è comunque una donna a salire al potere è sempre qualcosa di innovativo e buono. Sono d'accordo perché finalmente è una donna, finalmente è giovane e quindi sinceramente sono contenta. Dall'altra parte come premier c'è Giorgia Meloni, anche lei donna. Sì è vero, però ecco non è quella che io voterei. Ellie ci parla un po' del suo passato. Sì, sì, questa è una domanda bella. Il mio primo ricordo è il regalo del nonno per i miei sette anni. La Costituzione e i quattro codici commentati. Mi portai a scuola tutta via. Di chiunque ci va è sempre la stessa storia, non è che cambia qualcosa. A capo del Partito Democratico è andata Ellie Schlein. Cosa ne pensa? Vedo che è una donna abbastanza attenta, ecco. Adesso non so che... il dopo, però è molto attenta. No, no, lasciamo stare. Non vuole parlare di politica? No, 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 assolutamente. Io onestamente vado sempre cauta nei giudizi. La politica, secondo lei, è maschilista? Io non faccio distinzione tra uomo e donna. Bisogna lavorare per questo nostro paese. O porti il pandalono o la gonna, non ha importanza. Dici che arrivi quello e risolvi i problemi. Ci sta buonaccine e da preferire centomila volte a quell'altro. Quello darà fastidio, ma non concluderà nulla. Politica, che gli pigliasse un colpo a tutti. Addirittura. Sì, perché abbiamo i figli laureati, plurilaureati, e sono dovuti andare all'estero. Quindi è arrabbiata, per non dire un'altra parola. Sì, perché abbiamo i figli laureati, e sono dovuti andare all'estero. Grazie. Grazie.